Coronavirus, test sierologici agli insegnanti prima dell'inizio dell'anno scolastico. Test ricordiamo che era su base volontaria. 58.558. Quelli che hanno accettato di questi ben 57.438 sono risultati negativi al test sierologico, mentre 1.120 sono risultati positivi allo screening, ovvero hanno avuto un contatto con il virus, ma solo tre, a successivo tampone di conferma, sono risultati effettivamente positivi al Covid-19 e pertanto in isolamento. Di questi due appartengono all'uslotto Berica, dove peraltro aveva aderito al test il 73,9% degli insegnanti.